allora ettore sei contento ti stai facendo pettinare adesso ti pettino anche alessia era come felice tempo meno e ti ho pettinato anch'io a e questo qua è quello che ti abbiamo 188 figa una nuvola cioè praticamente te sei fatto di tutti i peli te non sei fatto di carne sei fatto sei un cane di pelo una palla di pelo una pecora un p di più una palla di pelo però mi sa che Ettore non è che sia tanto contento più che altro c'è la faccia da cane no cane rassegnato però secondo me andando avanti poi ti piacerà un po ancora tutto quello che hai prodotto le nuvole nuvole di ettore